Ciao a tutti ragazzi, sono Yomi Shan e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come potete già vedere dall'inquadratura, andrò a vedere insieme a voi, a dare una rapida occhiata al nuovo gioco di One Piece, One Piece Car Game, che dovrebbe uscire tra settembre e dicembre. Come potete vedere, infatti, queste sono le cose che si potranno già preordinare, proprio in questi giorni. Ho deciso di fare anche un video, se foste interessati, perché sono partita da poco il preordine, e io ne ho approfittato già per prendere questi qua, gli started decks, che dovrebbero, infatti, uscire a metà settembre, però non è ancora del tutto certa la data. Poi sarà possibile anche prendere già anche il Booster Packs, che sarà in uscita, mi sembra, a metà dicembre, e poi anche usciranno le cast leave per proteggerle. Come misura, se foste interessati, dovrebbero essere simili a quelle di Magic e di Pokémon, quindi la misura standard, non la small, come nel caso di Yu-Gi-Oh! Poi ora, naturalmente, vi andrò a spiegare meglio la procedura. Allora, questi Starked decks io li ho pagati 60. Questo invece viene 110 ed è un Booster di Empatican Bots da 24 bustine, e in ogni bustina troverete 12 carte. Queste, tra l'altro, sono quelle che potrete già trovare. In pratica, da quello che ho capito, il gioco è proprio sviluppato in collaborazione con la Tomei Animation, e quindi troveremo delle bellissime scene tratte proprio anche dall'anime e dal manga, come dice infatti qua. Vabbiamo Jinbei. Poi, allora, come vi dicevo, sono stati proprio rilasciati questi quattro Starked Deck, che in pratica vengono suddivisi in questo modo, me li sono scritti. Allora, Straw Hat Crew, che è il mazzo della ciurma di Luffy e compagni. Poi passiamo allo Wars Generation, il mazzo della ciurma di Kid. The Seven Wars of the Sea, dove troviamo un copertina Crocodile, quindi questo. E il quarto, ma non ultimo per importanza, si chiama Animal Kinder Pirates, dove troviamo un copertina Kaido. Scusatemi per la pronuncia. Dovrebbero contenere 51 carte e proprio dei segnalini, che ci aiuteranno poi a giocare nel gioco, questo nuovo gioco di One Piece Card Game. Infatti, Winter 2022. Il preordine l'ho fatto nella mia fumetteria di fiducia, quindi penso che lo possiate trovare nelle fumetterie aderenti all'iniziativa, però si può fare anche online, tranquillamente. Insieme al preordine mi hanno dato questa locandina che vi ho fatto vedere qua, più il Demo Pack, che è questo, e più il Promotion Pack 2022, che è questo qua dietro, che ora infatti andremo ad aprire insieme. Potete vedere la misura, a me mi sembra molto simile a quella delle Magic e delle Pokémon. Proprio quei millimetri in più di differenza con le Yu-Gi-Oh! Allora, aprendo la bustina, intanto troviamo qui queste cose qui, che in pratica sono le istruzioni. È tutto completamente in inglese, Provis è molto semplice da capire. E qua dietro abbiamo il tappetino. Che vedo qua sarà diviso in fresh face, draw face, done face, mine face e then face. Un po' come, diciamo, simile alle Yu-Gi-Oh! per alcune cose. E poi questo invece è il Promodeck, dove abbiamo dapprima Monkey D. Luffy, poi Nico Robin, Frenky, Cavendish, ovviamente molto belle, devo dire come design. Sai, il nostro Sanji, il nostro Sanji, Chopper, Bartolomeo, Radical Beam, e poi, come ultima cosa, abbiamo queste qua, che c'è scritto Your Turn. Dovrebbero, da quello che ho capito, essere dei segnalini, però dovrei leggervi meglio comunque le istruzioni. Allora, la differenza del retro è che queste qui, dei segnalini, io li chiamo segnali mettetri tra virgolette, sono con, come potete vedere, più sul bianco, mentre qua più sul scuro. Cambia soltanto il colore e la scritta rimane sempre One Piece Car Game. Piccolo, questo bellissimo disegno. Poi mi piace moltissimo anche la cornice. e il pack che vi ricevo, quello che viene 110 euro, in pratica sarà un pack aggiuntivo che vi darà modo di ampliare la vostra collezione. Ho visto all'interno, ve le metto comunque qui accanto, delle carte veramente bellissime. Ora mi viene in mente, per esempio, quella di Luffy o di Zoro, che sono anche proprio brillanti, luccicano tantissimo, e devo dire anche come qualità, se sono come queste, sono veramente molto buone. Era di Andei ad aprire il Promotion Pack, che sono veramente curiosissima. Allora, si presenta così, ora si vede molto bene. 5 cards per pack, Promotion Pack 2022, One Piece Card. Dietro è semplice così. Ed eccole qui. Allora, la prima carta che trovo è Monkey D. Luffy. I Smell Adventure Ahead. Kid. Crocodile. E infine Kaido. Ultima cosa che vi dico prima di lasciarvi, che hanno dato anche un'altra notizia, che questa è abbastanza fresca. In overno dovrebbe uscire anche un quinto mazzo speciale, chiamato proprio One Piece Film Red. All'interno, visto che sarà costituito proprio da carte speciali, con personaggi tratti proprio dal film della serie. E se riesco, comunque ve lo metto qui accanto. e ho visto anche quello ha delle immagini veramente bellissime. E anche quello, devo dire, mi incuriosirebbe molto prenderlo. Quindi vi saprò dire meglio più avanti. Poi naturalmente farò anche un video dove aprirò tutti i mazzi quando mi arriveranno. Quindi penso intorno a fine settembre. E se è quella proprio la data precisa o se slitterà, dobbiamo vedere più avanti. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Io ci tengo veramente tanto a consigliarvi questo gioco di carte di One Piece. questa nuova collezione. Proprio perché mi piace molto la qualità delle carte, mi piacciono soprattutto il design e il fatto anche di riprendere proprio alcune scene tratte dal manga o dall'anime. Una pratica ripercorre proprio la storia di One Piece attraverso le carte. Quindi lo trovo veramente molto carino. E con questo, fatemi sapere con un commento qua sotto se qualcuno di voi è riuscito già a prenotarli. Se sì, quali. se siete riusciti a prenotare tutto che sarei veramente molto curioso di saperlo. E con questo ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!